Giappone dopo la catastrofe, l'incidente nucleare, non solo la natura colpisce le coste nipponiche, Libia e lealisti intorno a Benghazi, gli uomini di Gheddafi stanno per prendere la città simbolo dei ribelli, chiesta una no fly zone, grave incidente in Puglia, 4 morti in provincia di Bari, non si hanno notizie di Jonathan, il ragazzo bergamasco scomparso l'altro giorno insieme ad una sua amica di Montecatini, economia, rischi, petrolio ed invasione, immigrati, grandi sommovimenti nel Nord Africa e le ripercussioni in Italia. Ben ritrovati gentili telespettatori con questa edizione del nostro telegiornale, avete sentito dai titoli il disastro naturale, il terremoto e lo tsunami, non sono le uniche calamità che stanno colpendo il Giappone, adesso il Giappone deve subire anche le conseguenze di un grave incidente nucleare, due deflagrazioni provocate da fughe di idrogeno si sono verificate nella centrale di Fugishima, continuano intanto le scosse di assestamento, l'ultima di 6,2 gradi, finora 5.000 le vittime accertate ma il bilancio è destinato a salire di molto e forse a raddoppiare, temono le autorità nipponiche, ancora 5 italiani non contattati, Borsa di Tokyo a picco si trova a meno 6, vediamo il servizio. Due nuove esplosioni sono avvenute alla centrale di Fukushima dove le autorità stanno lavorando per evitare perdite e scongiurare una catastrofe nucleare dopo il devastante terremoto dello scorso venerdì. Questa volta al reattore numero 3 ma anche al reattore 2 l'impianto di raffreddamento è entrato in avaria. Gli scoppi avvenuti alle ore 11, le 3 in Italia, sono stati provocati dall'idrogeno e 7 persone sono date per disperse, tra cui 6 soldati. I feriti sarebbero 3 mentre altre fonti parlano di 9. L'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica ha ricevuto notizie dalle autorità nipponiche che le strutture di contenimento del reattore non sono state danneggiate. Le esplosioni sentite fino a 40 km di distanza sono state simili a quella che si era verificata sabato nel reattore 1. Secondo le autorità giapponesi le possibilità di un'estesa fuga di gas radioattivo dalla centrale sono attualmente molto basse. Nelle altre due centrali che ieri destavano preoccupazione, Onagawa e Tokai sono stati rimessi in funzione gli impianti di raffreddamento. Smentito invece l'allarme tsunami dopo una scossa di assestamento di 5,8 gradi alle 10 del mattino, le 2 di notte in Italia. Da un elicottero dei pompieri era giunta notizia dell'avvistamento di un'onda di 3 metri in arrivo, ma l'Agenzia Meteorologica ha fatto sapere di non aver registrato alcun terremoto che potesse causare un nuovo tsunami. Le autorità del porto di Akinoe hanno revocato l'ordine di evacuazione per circa 13.000 abitanti. Alle 16.12, le 7.12 in Italia è stata registrata una scossa di 6,1 gradi. Il bilancio ufficiale del terremoto di 9 gradi Richter e del seguente maremoto di venerdì scorso finora è fermo a 1.650 morti e 1.720 dispersi. Ma un migliaio di corpi senza vita è stato trovato nella penisola di Ogica e altri mille cadaveri sono stati avvistati a Minami San Riku, dove risultano disperse circa 10.000 persone, pari alla metà della popolazione locale. Restiamo in Giappone, la polizia conferma sono almeno 5.000 le persone, le vittime del terremoto dello tsunami che ha colpito il nord-est del paese. A Miyagi, città investita dal sisma, i soccorritori hanno trovato circa 2.000 cadaveri. Intanto l'ambasciata italiana a Tokyo, dopo alcuni sviluppi maturati nella notte, è riuscita a stabilire un contatto con 27 connazionali sul totale di 29 residenti. Tutti sono in buone condizioni. Proseguiamo con il nostro telegiornale, l'esercito di Gheddafi, ci spostiamo quindi in Libia, sta prendendo anche Benghazi, città simbolo degli insorti. I ribelli male armati e male organizzati non sono in grado di reggere l'urto dei governativi sostenuto dall'aviazione. I lealisti sono a brega e si sono viste anche loro bandiere. A Tobruk la Lega Araba invoca una no-fly zone, servirebbe a riequilibrare le forze in campo. Vediamo. Nuovi raid aerei dei caccialibici sono stati eseguiti questa mattina sulla città di Ashdabia, nella Cirenaica. Lo riferiscono fonti giornalistiche alla tv araba al-Jazira. I raid hanno preso di mira in particolare l'ospedale e la caserma dell'esercito. Dopo aver preso il porto di Brega, dove secondo gli oppositori sarebbero ancora in corso i combattimenti, le brigate libiche hanno deciso di puntare su Ashdabia. Intanto i ribelli sostengono di aver attivato sacche di resistenza all'interno di Brega e di aver catturato decine di militari fedeli a Muammar Gheddafi. Secondo quanto sostiene l'opposizione, le forze anti-Gheddafi continuerebbero a controllare Brega. Ieri la tv di Stato libica ha mostrato le immagini dei ribelli in fuga dalla città e ha annunciato la sua liberazione dalle bande armate. Nelle scorse ore però gli insorti sarebbero tornati a Brega e avrebbero vinto la battaglia, catturando 71 persone. Mentre il Consiglio nazionale transitorio costituitosi a Benghazi chiede una no-fly zone ma esclude l'ingresso di truppe di terra, per Adi Shalouf, esponente dell'opposizione e leader del Partito per la Giustizia e la Democrazia, è necessario anche questo tipo di intervento. Se le forze di opposizione dovessero avere la meglio sul regime libico, le risorse petrolifere del paese sarebbero gestite in base alle posizioni che i paesi stanno assumendo rispetto alla Libia in questi momenti difficili. Lo ha detto Musaf Abdel Jalil, ex ministro della giustizia e attuale leader del Consiglio nazionale transitorio costituitosi a Benghazi in un'intervista al Financial Times. Chiediamo alla comunità internazionale di prendersi le sue responsabilità e imporre una no-fly zone, ha detto Jalil, oltre che adottare restrizioni al transito delle navi in modo che non si possano più usare armi contro i civili. Secondo leader del Consiglio nazionale sono anche necessari attacchi mirati contro obiettivi del regime, mentre è da escludere l'ingresso nel paese di truppe straniere. Incidente mortale, siamo a un altro servizio nella notte sulla strada provinciale 234 nel Barese, quattro le vittime di cui tre ventenni. Una quinta persona gravemente ferita è stata portata all'ospedale di Corato dove si trova in prognosi riservata in servizio. Sono quattro le vittime dell'incidente mortale avvenuto nella notte sulla strada provinciale 234 che va da Corato a Poggiorsini in provincia di Bari. Lo scontro è avvenuto all'altezza di un incrocio con via San Magno dove le due automobili si sono scontrate. Le due vittime più giovani sono Vincenzo Grassi, un 24enne, e Giuseppe Adamo, 22 anni, entrambi di Terlizzi. Le altre vittime, originarie di Maschito in provincia di Potenza, erano a bordo dell'auto che aveva la precedenza. Si tratta di Giuseppe Elia Diaso, 63 anni, e Giovanni Mollica, 57 anni, che stavano rientrando nel loro paese. Sono morti sul colpo, ferito il figlio di quest'ultimo. Le due vittime più giovani stavano rientrando a Terlizzi dopo un pranzo in un agriturismo con gli amici. Un terzo ragazzo che era con loro è uscito illeso dal grave incidente. Chi era alla guida forse non si è accorto dello stop e non è riuscito a evitare l'impatto violentissimo, complice probabilmente l'asfalto bagnato. Una delle due vetture era assolutamente irriconoscibile quando i soccorritori sono giunti sul luogo dell'incidente. Tre delle quattro vittime sarebbero decedute sul colpo a causa della brutalità dello schianto, mentre una quarta ha ceduto poco dopo il ricovero in ospedale ad Andria a causa delle gravissime ferite riportate. Un quinto soggetto è stato inoltre trasportato all'ospedale di Corato, dove si trova attualmente in prognosi riservata. Le due vetture accartocciate sono diventate una prigione per chi era a bordo. È durato a lungo il lavoro dei soccorritori, dei carabinieri e dei vigili del fuoco. I corpi delle vittime sono stati estratti dalle vetture in gravissime condizioni, tanto che non è stato possibile inizialmente risalire alla loro identità anche per l'assenza di documenti. E adesso un altro servizio con il nostro telegiornale. Un ragazzino di 14 anni, Jonathan Lana, è scomparso a Boltiere in provincia di Bergamo lo scorso giovedì. È scappato probabilmente per conoscere una coetanea Maria di Montecatini, contattata su Facebook l'ultimo avvistamento a Milano in Piazza Duomo. L'appello del padre. Vediamo servizio. L'appello l'ha lanciato il padre. Il figlio 14enne, Jonathan Lana, è scomparso da giovedì 10 marzo da Boltiere, Bergamo. È scappato probabilmente per conoscere direttamente una coetanea Maria di Montecatini, anche lei fuggita da casa, che aveva incrociato su Facebook. Entrambi giovedì mattina dovevano andare a scuola, ma non si sono presentati. Da quel giorno hanno fatto perdere le loro tracce, anche se alcune segnalazioni dicono di averli avvistati il 12 marzo a Milano, in Piazza Duomo. I genitori, che hanno denunciato la scomparsa solo sabato sera, non si danno pace e temono il peggio. Quando il padre del ragazzo ha cominciato a chiamarlo, Jonathan non ha più risposto né alle chiamate né agli SMS. Il giovane non ha mai nemmeno acceso il cellulare. I due ragazzini avrebbero solo 100 euro in due e Jonathan non ha nemmeno i documenti con sé. Il padre lancia così un appello. Ciao Jonathan, sono papà, ti voglio bene. Nessuno ce l'ha con te, vogliamo solo che torni. Sono disperato, non ce la faccio più. Una fuga d'amore che però giustamente crea molta preoccupazione nei genitori, vista la giovane età dei ragazzi. Proseguiamo con il nostro telegiornale. Ed ora in collaborazione con l'agenzia ADN Cronos, due servizi riguardanti gli sviluppi e forse anche gli effetti che potrebbero essere molto negativi della crisi in Libia. Sviluppi che riguardano la fornitura di petrolio e dall'altro lato il flusso degli immigrati nel nostro paese. Vediamo i servizi. L'Italia rischia di rimanere a secco. Le rivolte scoppiate in Libia minacciano le forniture di petrolio e gas verso l'Italia. Oro nero e blu da cui il nostro paese è dipendente. Da quasi dieci anni infatti la Libia è il nostro quarto fornitore di gas e il primo di greggio con oltre il 20% delle importazioni complessive. La caduta del colonnello Gheddafi e lo smembramento del paese avrebbero serie conseguenze sulla fornitura di petrolio e gas all'Italia e al mondo, considerando che la Libia è ricchissima di oro nero. Il suo sottosuolo nasconde 44 miliardi di barili di riserve accertate, le più grandi di tutta l'Africa, senza considerare poi che una parte notevole del suo territorio non è ancora stata esplorata. Ma Italia e Libia non sono legate solo da gasdotti. Roma è il primo partner commerciale di Tripoli e numerosi colossi industriali come Eni, Enel, Impregilo e Finmeccanica operano in Libia. Interessi da miliardi di euro che rischiano di andare in fumo con la caduta del regime dittatoriale del colonnello Gheddafi e che subito hanno provocato crolli dei corsi azionari a piazza affari. Anche perché se l'Italia è presente in Libia, la Libia è in portafoglio una fetta consistente di gruppi italiani considerati strategici. Ad esempio è primo azionista in unicredit e a quote importanti in Eni e Finmeccanica, attraverso la banca centrale o i fondi sovrani alimentati con le ricche plusvalenze del petrolio. Un legame, quello fra le due sponde del Mediterraneo, che rischia di spezzarsi e di indebolire l'economia italiana, già uscita al rallentatore dalle secche della crisi. Una nuova ondata migratoria sta per abbattersi sull'Europa. Le rivolte in Tunisia, Egitto e Libia, senza contare il rischio contagio ad altri paesi del Nord Africa, stanno per riversare sulla sponda Nord del Mediterraneo e in particolare sull'Italia nuovi massicci flussi migratori, con effetti potenzialmente destabilizzanti sia a livello sociale che economico. Pier Antonio Panzeri, europarlamentare del Partito Democratico e presidente della delegazione del Parlamento Europeo per il Maghreb. Io penso che l'Europa possa svolgere un ruolo importante, anche lo stesso Parlamento Europeo, soprattutto indirizzato su due piani. Da una parte l'esigenza di costruire le condizioni perché ci siano risorse finanziarie e supplementari, perché ci sia la possibilità di avere un tavolo europeo che permetta la ridistribuzione anche di questo processo migratorio con un atteggiamento maggiormente solidale dell'Europa e nello stesso tempo anche la possibilità di concordare con il governo provvisorio tunisino le modalità per far fronte a questo esodo e per fermare questo esodo. Secondo alcune stime, 2 milioni e mezzo di profughi potrebbero lasciare il Nord Africa per l'Europa, con l'Italia come prima meta. Ma per evitare l'esodo occorre rafforzare le basi economiche dei paesi del Maghreb, creando un'alternativa all'emigrazione. In questo senso, un piano europeo limitato alla sicurezza non basta. È necessario un intervento plurimo che agisca su più tasti. Sono grandi accordi di collaborazione, sostegno ai processi democratici in corso, favorire lo sviluppo economico e sociale di quei paesi perché è l'unica possibilità per evitare che i processi migratori, da processi migratori controllati e dico intelligenti, emerghi in sostanza un esodo di massa difficilmente governabile per l'Europa.